Ciao ragazzi, siamo pronti alla sfida anti-DUS, contro-DUS Bene, devo andare un attimo nel Discord di Paolo a definire le regole Ragazzi scusate l'intrusione, Paolo? Eccoci qua, ciao Canto Ciao Nazionale Italiana La come? Ciao Nazionale Italiana Puoi dirlo forte e chiaro I migliori giocatori mai scelti, fra tutto gli abitanti italiani e non solo Allora Giacomo, giocheremo Best of Five, giusto? Sì, giocheremo con le regole del torneo, giusto? Sì Senza ban, contro, non si possono biccare le stesse cose, il game dopo Sì, tutte le partite, se io prendo Brown, Brown non può mai più essere selezionato per tutto Il resto della competizione è una partita di entrambi, ok? Perfetto Ah, una cosa sola, Vigil non... scusami Victor per la pioggia non può giocare, gioca Vigil Eh, questo è un po' grave Eh, non è scelta, cioè è obbligatoria come roba Vigil è molto più forte di Victor Eh, ma voi siete... vabbè, che c'è, siete la nazionale, scusa Allora ragazzi, ci hanno detto che è stato, se non può giocare, c'è Nemesis come rimpiazzo Vabbè, vabbè, vabbè Ma non fate i bagliacci, la storia, dai, per favore Va bene, va bene, iniziamo giù subito a mischiare le cacche in tavola Vabbè, noi avevamo tutto la draft per Victor Ma, cagare, ma che c'è stato il banno, ma che draft dobbiamo fare, per favore Non ho capito che è successo No, a parte gli scherzi, no, veramente, Victor non può giocare per la pioggia È su Discord che piangi con noi, ma li crashano in tre secondi Ho capito bene, Victor ha paura di giocare contro di me? Senti, cargamella, non parlare, per favore Va bene, siamo pronti? Aspetta, no, finiamo un attimo, la scelta del side Avete preferenze, voglio fare monetina, per me è uguale Noi vogliamo red side, se voi volete blue side non dobbiamo tirare la monetina Ok, ora che me l'hai detto, noi vogliamo red side Sto scherzando, potete fare quello che volete, va bene blue side No, tiro la monetina se vuoi Facciamo così, se esce destra, noi blue, se esce rosso, cioè se esce cross e poi blu Chi perde e sceglie, chi perde e sceglie la side Chi perde e sceglie, va bene Ma no, scusa, facciamo un side, un side, un side Io pensavo chi perde e sceglie Ok, è uguale, va bene Vado E fate voi la stanza, eh Va, fa rocks Va bene, buona fortuna nazionale, forza Buona fortuna, Antidus, divertitevi Sì, io vi cagherò poco oggi, ma è una giornata importante Dobbiamo umiliare Paolo e la sua nazionale scelta a tavolino fra amichetti e altre situazioni Comunque, giusto per dire, i clown già si stanno attaccando a Vigile molto forte di Victor Ma non è vero Veramente dei pagliacci Sarà così forte perché non hanno preso nel tryout allora? Sono d'accordo Veramente l'hanno detto Ma sono incoerenti quest'altro Sì, sì, sono dei pagliacci totali Va, distruggiamo Grazie Oggi Oggi è l'unica giornata in cui ci dobbiamo impegnare Ok Io farei Ezreal Poi possiamo fare anche Ezreal Karma Esticato Decidi no? Ti piace Karma, eh? Ma possiamo aspettare, se no, è uguale Possiamo aspettare Facciamo Ezreal Jungle Va bene, Ezreal Jungle va bene Jungle, quello che volete Possiamo andare vai Mi piasa, mi piasa Leona Broma per me Io farei Braum Marenecton, ragazzi Prendi Atrox e ci va di lusso Ho sbaglio Atrox ci va di lusso, sì E skill match L'importante è che non picchi Yasuo Ma anche Jax ci va bene, dai Anche Jax ci va bene Adus le robe Se fuggiamo standard Poi dobbiamo agire top Però loro tengono agire over agro bot Però, no, non è questo Perché Dedo ha detto che non ha prio E non ho capito Se vincete 2v2 E se, cioè Se no viene bot Dipende tuttora come usa la Jax Secondo me Al 6 vinciamo 2v2 Se vincete 2v2 in top Cioè, tu hai prio E giocate per scatto Andasse top Se no, noi bot ci siamo Cioè, solo per spara A me non cambia niente Bot sembra sia pullando Non so se ando in buzz red Eh, potrebbero Lo scopriamo breve Non penso, non penso Perché sono passato qua E non m'hanno punito Quindi, no, no, no Hanno pullato, hanno pullato Creon ha leggermente mano in meno Cal 2v2 Cal 2 Facciamo insieme Ce l'abbiamo anche noi Hitta quella Ce l'abbiamo Ci ingazziamo Vinci No, no, no Provo una devare Provo una devare Provo una devare Così Frese la devare A me è nintato Ok, nice Io faccio il 6 su sta wave Non so se gli vuoi dare noia Quanto ti manca al serie? Questa wave è su questa qua Ok, close man Però lui crush Stoppato, è stoppato, guys Oh, nice Ho alto braio su guys Dopo sta wave Siamo a dare trick su sta cosa? Che dovreste fare? No, ok Penso che Jarvan sia round bot Perché prima ero top side No, no, no Sta battendo top Kaisa è alfa C'abbiamo proprio mid Possiamo far drago C'è anche amici S più che possiamo Secondo me Perché loro vogliono Besare su questo Mid ce l'abbai O poi rompere top In 10 secondi Well played Ciao Kaisa Dove è il Jarvan mid Jarvan mid Ult mid, ultato mid Ultato mid Well played Ci sono, arriva Guarda, guarda Sono un Arriva Kaisa Arriva Kaisa Arriva Kaisa Su sto fight sono 2x Kaisa Dobbiamo fixare la wave Not si muove prima Not si muove prima Sì, si Può shootare la bot E poi ci muoviamo Arriviamo Arriviamo Guarda sul Kaisa Fight vince Non ulti Kaisa Eh, guarda Guarda è morto Hai played? Tipo top No, no, no No flash Kaisa No flash Kaisa Good tempo Ti guardo Io ero Restiamo Restiamo Ti tipo Don't work Non può freggio Dai l'altro Ti servo Non ti servo Kaisa mi fighta No, no Non mi serve Non mi serve Vabbè grande C'era il numero 1 Jarvan è qua Bravo Ora l'eralta botta Startiamo lo instant Vai, fight Startiamo instant È good, è good, è good A giocare Vai su Jarvan Forziamo l'out Forziamo l'out Yep Sindra è qui dietro Attenti a prendermi Eralta, eralta, eralta Tipa bot Tipa bot No, non ti Ormai lo dobbiamo fare Ok, ok Ok, ok Qui, 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 qui Ulto Ci muoviamo È good, è good È good Giocatevela Stavo tifando Quello è Jaxx Questo è Jaxx Jaxx, Jarvan qua Arrivo su Jaxx Primo target È good, è good, è good Jaxx, Jaxx Kaiza, 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 Kaiza È fine, è fine Vai, 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 vai Ancora no flash Kaiza Ok Sindra top stanno dando Sindra top stanno dando Potete andare Potete fight Arna Tanto non Vediamo Vediamo Se vanno dracca Ce la facciamo Ce la facciamo Ce la facciamo Jarvan Oh Date un occhio qua Tipiti Primo target Primo target Primo target L'outo, l'outo, l'outo L'outo, l'outo Jaxx, Jarvan, Jarvan, Jarvan Sei spittato a counter Ci arrivo per poco Ci arrivo per poco Vai sul Jarvan Vai sul Jarvan Jarvan è nascendo Jarvan è nascendo Jarvan è nascendo Non drake Non ha fermato Vai, è morto Drake, drake Diamo top Raga, possiamo punire Paolo Qua si arriva l'outo Qua si arriva l'outo Io ci sono Io ci sono Nouto, no flash Nouto, no flash Puoi andarti straight È morto, è morto, è morto Go, go, go Sto a fire faiaccio Sto a fire faiaccio Sto a fire faiaccio Ti spitto Vai, played Mid-frio, mid-frio Appena avete killato Mid-wave into Nash vision Possiamo startarlo E tornare Io sparo Siamo in Nash Mi stanno guardando Vai, vai a stare qua 9k Lo sanno Ulto Guardate Guardate Guarda, guarda, guarda Guarda, guarda Guarda Jarvan He's dead Barron, barron, barron Vai nascendo Dopo vado Fai nascendo Giochiamo e giochiamo solo Mid-bots Ok Giochiamo solo due legni Mid-bots Io vado aggro qua Se vengono a punirmi Io sono fine L'unica cosa che può C'è un TP C'è un TP C'è un TP C'è un TP qua Carval 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 Muogliono Oh stoppo C'è? Prendo tempo Jack stop Jack stop Arrivo, non c'è Jack Arrivo It's fine It's fine It's fine Ok Jarvan Ok Jarvan Front to back Front to back Guarda sul Jarvan Guarda, Kaisa dopo Guarda, Kaisa dopo Io c'ho ancora una stop Basics su Jaxx Basics su Jaxx Mid-mid-mid-mid-mid No, non possiamo finire C'è lo Sinta? Non c'è lo Sinta? C'è lo Sinta? La stop di ulti fra 5 Sicuro è inib Tanto inib andiamo sicuro Mamma mia Sinta è morta ora Sì, per me puoi tiffare Andiamo sempre Sì, 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 andiamo Vuoi risultare, Bici? Ma io c'ho ancora stop No, c'ho ancora stop Ho la ulti di nuovo, raga Ho la ulti Nessi, nessi Guarda, guarda Jarvan Oh, che di hai? Che di hai? Che di hai? È slovato? Nice Siamo un buon team Siamo andati per questa kill Era... Buono Dai ragazzi Uno Con Vigi è troppo unfair I post È uguale Eh, ma si attaccheranno a questo Se facciamo 3-0 Bro, ma se lo fanno Sono cringe Cioè Ma sai perché? Perché letteralmente Era uno dei candidati A giocare Non d'accordo Per quello Vigi, la te non hanno preso O tu non hai voluto? Ma cosa, Aldous? Sì Aldous non mi hanno manco scritto Quindi... Cringe Non ti hanno neanche scritto Esatto Saresti andato se no Oppure no No, io avrei fatto 3-0 per il meme Sì Esatto Perfetto Quindi non posso dire niente Questo che dicono Cioè, non hanno scritto Il miglior 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 in Italia Ci sta Però in realtà se... Sono guardato un attimo la chat Tipo, ci stanno tutti gli idolazzi Infuriati Tutti gli idolazzi infuriati Dai, vetti Non distruggere Allora, adesso Secondo me Più va avanti Meglio è Perché loro sono stretti di pic E noi invece siamo Belle in pista Ora vediamo che side scelgono Belle infuriate L'idolazzi Guardali lì Guarda, secondo te Con un coach come Brizzi La situazione sarebbe stata Guardi per bene a voi Io Brizzi Lo avrei contattato per il meme finale Per farci da coach E se ci fosse stata reale Possibilità di giocare noi Il torneo dei Drowtooth Però siccome Rimane meme Questa cosa A meno che loro non capiscono Che la nazionale italiana Si deve inchinare All'antidusso Dopo questa bo5 Però, eh Non possiamo giocare Ok Io farei hash Qua Facciamo hash nico bot Ragazzi Bottlin Bottlin Hanno Plants Ignite Per qualche motivo Cioè possiamo fare Activate entrambe le side Shade Quella che vi piace il più Va bene Se le invadiamo io posso andare dietro Venite venite anche voi Venite No andiamo di side Andiamo a mettere le ward qua E vediamo se Rakan arriva Qua Mettiamo una ward qua E' la cosa che ci serve La metto qua una pure La metto io Guarda Rakan Guarda Rakan Guarda Rakan Ci fightano Guarda Fiora 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 Insieme Insieme Lissin 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 a Q Lissin a Q Rakan 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 Torniamo top Vuoi fare trades prima? Rates Rates Lui è giga low Io ho giocato una pozza Per me possiamo andare qua Ma becca In teoria becca Rakan Rakan becca Andiamo a frezzare Ok puoi andare Io ward qua Oh la Sina è qua Possiamo andare a fastidio eh Vai vai andando di fastidio Non gioca Non gioca Cold me Ok arriva Rakan No cleanse Rakan ha startato E Raka eh Si si Rakan ha la E Non possono dirci nulla No possiamo continuare Io pusho stavevo arrivo Io pusho stavevo arrivo Ok ti aspettiamo A posto a posto a posto Siamo setta di nuovo No ma secondo me è da continuare Stanno art rifando Dove facciamo Occhio alla V Alla E Alla E Rakan Alla E Rakan Continua C'hai? Non ce l'ho però va bene WTF Uff Sì Giocano per divare bot lord? Rivando Un minion al 2 Ho dovuto flashare ma è worth Preciso ragazzi Arc usciamo questo e resettiamo Guarda qua Guarda qua Arriva No rimani così dopo Io mi sto vedendo Aria è qua sun Abbiamo preso un chunk Cree se miri su champion Non hai hit to the spell Aria è bot Io ho il TP Comunque Aria è bot Se committano tipo sulla torre Siamo fine Betiamo Guarda Well played All arrow Sì 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 Deviamo Well played Guarda su lì sì Deviamo sparare qua Usa l'Aeran Samuel Ok Oh Se tu vuoi fare training stick tock va bene Lo tocco Ma non aveva il kick? Sì io ho stappato la vista Ok Arrow in mezzo Bush in mezzo Cazzo Arriva arriva arrivo Date un occhio qua Date un occhio qua Sono con te Sono con te Ti posso sempre guardare Ti posso guardare Si muove bot anche Rakan E' morto 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 Ok L'unica cosa se vi scioguate tre Potrebbero correre tutti Ok Secondo me il palo L'occhio non nasce No 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 Apposto apposto Ce le 5 Ce la fai bro Vanno a sudarti Sono solo Finisco di passare qua Chi ti pa' dietro eh No flash le Sin Maxai è qua Sin le Sin le Sin No flash No flash No flash Vado su Ari Siamo frenasciore Ulti su Ari Nice Andiamo Nasce Nasce TP 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 Chi le ha moffi ora se viene in Chi le ha moffi ora 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 Chi vuole qua Ok Ehm 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 E giochiamo per il poke ragazzi Si gioca sulla prossima comunque Io prendo la prossima e ruoto Ok Siamid Vanno su di me Vanno su di me Vanno su di me Flash Hanno committato Non ho committato Continuate bot Vengo bot Ok 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 Arriva arriva Stop e recall Stop e recall Stop e recall Raga la prima è Q che hit Non ha TP Fiora Non ha TP Fiora Non ha ulti Ari Non ha ulti Ari Guarda Paolo questo Il famoso Ah il famoso Harry Rakan Ma perché non gioca Non gioca a Guardian? Eh Questo è il famoso bro Ascolta Counter Johnny Sins mi ha detto Sadatz ha detto Che avete fatto più scream Di loro Ah 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 Ma vigile di stai Poi con il mio Abbiamo visto L'hanno visto L'hanno scritto Vabbè Poi Ma Allora Era questo che faceva i versi Questo sveglio Allora Noi Adesso finiamo Poi si appelleranno Ogni cazzata per dire Eh avete cambiato il player Eh ma fidati Si appelleranno ogni cazzata Ma ora Ora ci chiede verso su ipano Eh Per il potere Ora sai che cosa farà Sai che cosa farà Coachrocks Per proteggere la scelta del top Dirà Juan Non hai sbagliato A trattare A usare la w in Mentre abbiamo splitato la mappa No 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 Il problema è stato E ora si inventerà Mille altre stronzate Ignorando il fatto Che il tipo Ha trattato livello 2 In con la w con velvet top Coachrocks Deve essere umiliato Gli altri Gli altri non mi interessano Cazzi loro Ma quello deve essere umiliato È arrivato proprio quel momento Di andare a guardare Alla chat di Paolo Il mio momento preferito Post game Andare a vedere L'idolazzi Arrabbiati Mutate gli stream Se no copiano Ma dai stanno mutando Ma a me che cazzo Ne prega Sempre stiamo costando Mutate gli stream Grandi l'idolazzi Adesso si appelleranno Al fatto che stiamo Copiando le loro strategie Mamma mia bro Che godimento Hanno creato La nazionale italiana Il team Più forte Che si potesse fare In Italia Con Coachrocks E il grandissimo Joan Bro Sto godendo Infinitamente Non mi interessa Se non ci fanno giocare Al druid Anche se Se la vendi Come nazionale italiana E mandi il team Più scarso Se è un po' ridicolo Ma Non canto vittorie Però Davvero imbarazzanti Hanno Letteralmente Noi non abbiamo Preparato un cazzo Non abbiamo Scream Abbiamo scremmato Ridendo E abbiamo fatto Le draft al momento Cioè la nostra draft È uscita Letteralmente Così Perché Hanno first pick To xia Bro Ma come fai a first pick To xia Cioè Veramente Facile E se non ne abbiamo chiuso In 15 minuti Perché Si sono messi a ridere E di te Non iniziare a trollare Comunque Importante Direi Importante Ti hanno slidberato La tratta Paolo Io ho appena messo Il concetto Divertente Veramente Divertente